Avete visto, no? Sì, 40 anni, che cosa vogliono dire? Era un'era geologica fa, sono cambiate moltissime cose nella nostra vita, usi, costumi e sono cambiate tantissime cose anche nel mondo di FIIP. Allora, caro Paolo Righi, che è cambiato in questi 40 anni? Sono cambiate tante cose, intanto siamo cambiati noi, crescendo per fortuna, si cambia, si matura e direi che anche questa federazione al quarantesimo compleanno è diventata una federazione più matura, più importante e dove i dirigenti e gli associati hanno preso piena consapevolezza del ruolo che svolgiamo nella filiera del real estate, come si diceva nel filmato, ma anche a livello sociale. Noi ricordiamo sempre che, così come per altre professioni, la gente immobiliare, la nostra professione, è tutelante del consumatore, perché le famiglie italiane, che grazie a Dio lo dimostrano anche gli ultimi dati, nonostante l'alta tassazione, ancora vogliono comprare casa, devono essere tutelate. La gente entra in agenzia, mette tutti i risparmi della vita in questo acquisto e noi abbiamo l'obbligo morale e civile di essere formati, preparati e di rispondere alle esigenze anche di un nuovo mercato. Quindi FIAI da sempre dice no ai professionisti o ai mediatori di risulta, dice no alle liberalizzazioni complete, dice no non al futuro, ma si oppone al fatto che la tutela del risparmio degli italiani, che si svolge anche attraverso l'immobiliare, possa essere così mal gestita come un vento liberalizzatore addirittura dei tempi della Volkestein pretendeva. Oggi, lo dimostrano anche i recenti studi, l'ultimo di Tecnoborsa, gli utenti che si rivolgono alle agenzie immobiliari sono passati dal 45% al 62%. Ora è chiaro che qui non mi voglio mettere nel gioco delle percentuali, perché sapete che tutti i giorni c'è una nuova percentuale anche a livello governativo, anche i dati di oggi, il PIL, non il PIL, meno 3, meno 0,1. Però è indubbio che siamo cresciuti come categoria, siamo cresciuti come professionalità, la gente è l'utente, veniamo percepiti meglio e questo è un orgoglio che deve essere di tutti noi, di tutta la categoria, perché la FIAIP ha contribuito in questi 40 anni a sensibilizzare gli utenti. Quindi io vi do il benvenuto qui oggi a tanti amici che incontreremo nel corso della giornata e che dirvi, sono anche un po' emozionato nonostante i tanti anni e i tanti convegni, perché effettivamente oggi è un momento importante. Ci aspettano dieci anni di lavoro intenso, perché come dicevano nel filmato, la crisi del 2008 è costata come due guerre mondiali. Oggi siamo pacificati, diciamo, ma i dati economici non sono confortanti. La politica europea e italiana non sta spingendo sul real estate, che ricordo è l'unico segmento dell'economia ad essere anticiclico. Lo dicono studiosi, lo dicono tante persone, ma lo dimostra l'economia americana, che per riuscire dalla crisi della finanza è ripartita dal real estate. Lo vedremo nel corso della giornata. E allora quello che chiediamo da sempre è uno shock, uno shock sull'immobiliare, uno shock che permetta agli investitori italiani di tornare alla redditività senza, e mi dispiace per i colleghi che lavorano con l'estero, ma senza esportare capitali legalmente. Nel 2015, nel 2014, hanno comprato casa all'estero 41.000 italiani. Nel 2015 hanno comprato casa all'estero, l'anno successivo, 49.000 italiani. Allora vuol dire che oltre alla fuga di cervelli in questo Paese c'è anche una fuga regolare di investimenti. Allora teniamoci qui i nostri cervelli, teniamo qui gli investimenti immobiliari, perché vorrei ricordare che dopo il 2008, quando fummo chiamati noi italiani alla manovra fiscale Salva Italia, che aumentò la pressione fiscale di una cifra inusitata, passiamo dai 9 miliardi e mezzo del lici ai quasi 30 miliardi delle nuove tasse. Ecco, questa venne chiamata manovra Salva Italia. Bene, vi dico che non è stato Monti a salvare l'Italia, siamo stati noi dell'immobiliare, noi cittadini italiani, che abbiamo risparmiato, che abbiamo investito in un bene che fa parte della nostra storia e della nostra comunità. Grazie a tutti per essere qui e complimenti a voi, perché grazie a tutti gli associati che oggi questa federazione può dire di aver raggiunto la maturità. Grazie. Allora, aspetta, aspetta Paolo, stai ancora lì. Intanto poi vedremo che farà il neopresidente eletto Trump a proposito, ha annunciato un grande piano di investimenti pubblici in cui c'entrano sia le infrastrutture ma anche le costruzioni, il mondo delle edilizie e delle costruzioni. No, volevo dire una cosa, una piccola sottolineatura. È bello quando tu dici sono qui oggi, nonostante tante volte, tante occasioni, i congressi eccetera, ancora sono emozionato e viva Dio che è uno di emozioni ancora. E poi volevo dire una cosa, siccome all'inizio, non so, mi pare proprio il saluto iniziale diceva oggi Roma ci ha colto con un tempo un po' così e così, adesso noi qui siamo confortevolmente chiusi in questo splendido salone, non so come il tempo fuori, lo dico perché, mi date un'immagine, c'è una pioggia qualcosa, ecco. Lo facciamo subito, abbiamo evocato questa immagine, non per essere uccelli di malaugurio perché avete visto anche nel corridoio l'ingresso prima di entrare qui, ci sono moltissimi ombrelli, no? Siglati FIIP e altri gadget, tutto questo per dare il nostro contributo, magari piccolo però sempre molto importante per tutte le persone a proposito di casa che hanno perso la casa, hanno perso tutto nelle zone dell'Italia centrale terremotate, io farei un grande applauso per tutte queste persone e la casa lì è ancora più un simbolo di quello che si è desiderato per una vita e che in un istante magari è venuto giù, quindi ricordiamo, potete contribuire e anche credo parte della scena di gala di stasera, parte di queste risorse saranno dedicate a queste persone. Volevo farlo. Vedi Andrea, noi ci teniamo a dire che i fondi saranno destinati ai nostri colleghi, ci teniamo a portare avanti questa solidarietà che ci deve essere ormai persa perché noi italiani diventiamo solidali solo per i mondiali di calcio e quando ci sono questi eventi, viva Dio, questi eventi ci permettono di tornare a essere e a sviluppare quella umanità che è propria. Però questo è un Paese veramente diviso, riusciamo a litigare su tutto, no? E non ultimo, io anche dopo il sisma, io essendo emiliano ho vissuto quello precedente, quindi chi ha subito un trauma di questo tipo tende sempre a smitizzarlo un pochino, a passare sopra. Però anche questa cosa qui nell'immobiliare si riflette. Io non vorrei mai che poi sull'onda di quello che è accaduto, ancora una volta il Governo o chi per esse cercasse di tramutare questa disgrazia in una tassa, no? Parlo del fascicolo del fabbricato. Io che l'ho vissuto il terremoto, non è che il fascicolo del fabbricato ferma la distruzione o ferma le onde, ma non è possibile che siamo sempre noi a pagare per cose che dovrebbero essere gestite diversamente. Ci sono tutti i documenti per fare questi fascicoli, ci pensasse lo Stato. Non si fa lavoro e non si creano posti di lavoro a livello governativo facendo il fascicolo del fabbricato. Abbiamo bisogno di altro, ma ne parleremo durante il corso della giornata. Per l'altro c'è stato anche un tentativo da alcuni definiti maldestro l'altro giorno in sede parlamentare a proposito delle leggi in ITER in questo momento, in osservazione in esame, qualcuno che ha tentato di mettere forse l'ennesima tassa sulla casa, poi la cosa per adesso è rientrata. Ma questo è un altro discorso.